Una situazione devastante, quello che più mi fa arrabbiare è che abbiamo decine e decine di case occupate abusivamente su Pescara e non solo da delinquenti criminali e pregiudicati che utilizzano le case popolari per delinguere. Non solo questo, abbiamo decine e decine di alloggi vuoti, non assegnati. Alla luce di questo noi dobbiamo vedere che c'è un povero cittadino onesto, onesto, che ha sempre pagato le tasse, è gravemente malato, lui è la propria moglie, costretti a vivere in una rimessa agricola dopo aver fatto domanda di casa popolare da 10 anni. Questi poverini rischiano di rimanere veramente in mezzo alla strada tra qualche giorno perché hanno ricevuto una diffida a sgomberare l'abitazione perché rimessa agricola non è a norma. Questo è un caso devastante, lui ha posto all'attenzione di tutti gli organi competenti che deve essere immediatamente risolto con l'assegnazione di un alloggio popolare. Queste sono le battaglie contro cui ogni giorno noi ci scontriamo, combattiamo perché chi ha diritto sta fuori e chi non ha diritto sta dentro alla casa popolare. Il 30% delle assegnazioni delle case popolari è gestito attraverso, è proprio destinato a situazioni di questo tipo qui. Il Comune sta eliminando le liste provvisorie e non ha intenzione nemmeno di gestirle con atti sindacali. A questo punto le istanze di signori in emergenza evidativa come il signor Ciano, come ha intenzione di gestirle il sindaco? A questo attendiamo una risposta. Chiedo un atto di giustizia, avere una piccola casa popolare per poter vivere. Noi siamo richiedenti di casa popolare da circa 8-9 anni fa, però non eravamo in uno stato di emergenza. Poi mia madre è morta, ci hanno sfruttati per molossità ingolpevole. Io che non ho reddito perché sono ammalato da 10 anni, ci siamo ritrovati a dover uscire e siamo andati a finire dietro fortunatamente un'amica di mia moglie. Stando in questa rimessa agricola che era invivibile, ho chiesto un'ispezione sanitaria alla ASL per muovere un po' le acque. L'ispezione ci ha dato ragione. Il Comune ha fatto un atto amministrativo che noi dobbiamo uscire da quella casa perché non è idonea ad ospitare persone. Dal 1 gennaio, se lui vuole, mi mette fuori. Cioè noi finiamo a dormire in una macchina. Il sindaco, con molta cortesia, ci ha detto che comunque non avevamo diritto, che dovevo seguire la graduatoria. In ogni caso mi sono tutelato perché ho fatto già una denuncia presso il comando provinciale dei carabinieri e la pratica è tutta in mano alla procura. e chiederò l'apertura di un'inchiesta.